Io vi dico due appuntamenti che abbiamo prossimamente, oltre a questo di Brunate, il 10 ottobre ci sarà la marcia Perugia Sisi, il coordinamento Comasco sta organizzando un pullman per partecipare, penso che nei prossimi giorni pubbliciteremo sui nostri canali il pullman, i costi e gli orari della partecipazione, e poi invece rispetto al trattato sul nucleare vorremmo organizzare, organizzeremo, non più che vorremmo, organizzeremo un momento di un simil convegno, adesso vedremo un po' le modalità, però sicuramente parte in presenza, parte in remoto, sul nucleare, quindi sull'argomento che ha parlato un po' prima Abramo soprattutto, pensavamo di farlo già nei prossimi mesi, quindi prima della fine dell'anno, e faremo una conferenza stampa anche qua pubblicizzando l'evento. C'è qualcun altro che vuole intervenire? Altrimenti io chiedo se le amministrazioni, i rappresentanti delle amministrazioni, poi magari se ci possono lasciare un recapito, una mail, un telefono, in modo che poi lo sviluppo di tutti questi argomenti, ci sono vari comuni che non hanno potuto essere presente, Albiolo, Cucciago, Olgiate, sono sotto elezioni che mi hanno fatto, comunque mi hanno rinnovato un po' la loro partecipazione al tema e quindi cercheremo di aggiornare, cercheremo un po' di coinvolgere, di maggiormente coinvolgere le associazioni e le amministrazioni comunali.